Buongiorno a tutti e a tutte, un saluto particolare alla Ministra che ringrazio per l'attenzione che sta avendo per il nostro territorio, ovviamente a tutte le autorità presenti e a tutti coloro che hanno voluto partecipare intervenendo e li ringrazio e ascoltando questo momento di riflessione che è importante per tutta la nostra comunità. Quello del cyberbullismo, io cercherò di approfondire un pochino di più il tema del cyberbullismo che ovviamente è collegato anche al tema del bullismo, è un tema che oggettivamente sta a cuore credo a chiunque abbia una responsabilità all'interno di una comunità, quindi chi lavora nelle scuole ringrazio tutto il personale della comunità scolastica per il lavoro quotidiano che fa chi ha una responsabilità rappresentando un'istituzione, le nostre forze dell'ordine, la polizia municipale tutto il personale che in qualche modo ha a che fare direttamente o indirettamente con i ragazzi della nostra comunità e in questi ormai quasi quattro anni ho avuto la fortuna di partecipare ad esempio ad alcuni incontri organizzati dalla Polizia di Stato che ringrazio per la prevenzione verso questo fenomeno odioso, iniziative incommiabili che dimostra come lo Stato sia presente e attento con ovviamente tutta la forza che ci può mettere. Ho partecipato anche a iniziative portavanti della Polizia Municipale che si è dotata di strumenti per monitorare il fenomeno e provare a prevenire le conseguenze ogni qualvolta sia possibile. Ho avuto la fortuna in questi anni di girare molte scuole e vedere con i miei occhi l'attività quotidiana che viene fatta all'interno appunto del mondo della scuola e devo dire che come un denominatore oltre alla grande capacità, professionalità e passione che viene emessa nel cercare di affrontare il fenomeno c'è sempre stata correttamente l'attenzione ai giovani che è doverosa e necessaria perché sono loro i più colpiti dal cyberbullismo in ogni sua forma e sono certa che oggi ci sarà ampiamente tempo e modo di affrontare il tema con persone molto più preparate di me in proposito. Oggi vorrei però provare nel mio piccolo, cogliendo questa occasione, ad allargare il campo e invitare tutti noi che siamo qui presenti, ovviamente la sottoscritta in particolare perché ha scritto questo intervento, però a invitare a pensare se la lotta senza quartiere, che tutti dobbiamo intraprendere contro il cyberbullismo, non possa trovare in realtà spazio di successo rivolgendosi non solo ai giovani ma anche ai più grandi, più adulti. E lo dico perché a me è molto colpito, come penso anche a molti di voi, la notizia di qualche giorno fa che titolava parcheggia sul posto dei disabili, poi chiede scusa e si multa, ma finisce nella bufera social, vigile si uccide. È successo, abbiamo letto questi racconti, ed è successo in provincia di Brescia. E di sicuro i protagonisti di quegli insulti che avrebbero portato, secondo quanto leggiamo al tragico gesto, non credo fossero solo ragazzini. E non si tratta di reati commessi da minori, ma appunto probabilmente da adulti, che almeno sulla carta dovrebbero avere più esperienza e più consapevolezza del mondo che li circonda. Sono sicura, perché la domanda me la sono posta anch'io quando ho letto la notizia, che molti leggendo la notizia si siano chiesti ma come è possibile addirittura arrivare ad uccidersi per un commento su Instagram. Evidentemente è possibile, perché probabilmente trovarsi nel centro dell'agonia pubblica è un'esperienza terribile. E che che se ne dica, ognuno di noi per vivere in questa società sente l'esigenza di un'accettazione sociale. E quando questa accettazione non solo non c'è, ma diventa rifiuto, insulto, ingiuria, minaccia, viene probabilmente spontaneo pensare che in quella società non si ha letteralmente più senso di esistere. La vergogna sociale colpisce nel profondo la dignità e l'identità di un individuo e la sensazione di chi ne è colpito è che non se ne esce, che nulla sarà mai più come prima. Quindi probabilmente prima fingi che tutto vada bene, tacendo le tue emozioni, poi ti isoli, poi smetti di prenderti cura di te, di te stesso. E se a quel punto sei davvero solo, puoi arrivare a pensare a gesti tragici. Ecco, io credo che in quel momento, se non si riesce a lavorare sulla prevenzione, la differenza la possano fare sostanzialmente due cose. La consapevolezza, ciascuno di sé, e soprattutto la presenza di persone che ci stanno vicino e che ci stanno ascoltare. E quindi partendo da questo esempio vorrei concludere con due brevissime riflessioni. La prima, il cyberbullismo è un fenomeno odioso che coinvolge tutti e tutte, a prescindere dall'età anagrafica. E sebbene il discorso sia certamente da approfondire, gli adulti non possono pensare, lo dico, ripeto, a me stessa, di insegnare ai più piccoli ciò che noi stessi non siamo magari in ogni qualche caso capaci di fare. I più piccoli non possono pensare che questo genere di reati possa essere giustificato dalla loro età. A me è capitato molto spesso di sentire la parola bravate, parliamo di reati. Questi sono reati a tutti gli effetti, non sono bravate, anche perché può esserci in ballo la vita delle persone e quindi parliamo di reati e gravi. La seconda riflessione, e questo lo sapete voi meglio di me, passa dalla prevenzione, che parte innanzitutto da un'educazione che non sta solo nell'utilizzo degli strumenti, ma anche nel creare una maggior consapevolezza di sé, nel rinforzare l'identità dei più piccoli, ma soprattutto nel creare una rete. Solitudine e indifferenza sono tra i peggiori mali del nostro tempo, lo hanno detto anche Barbara e Antonietta. E non possiamo prendere, non possiamo permettere che la solitudine e l'indifferenza si prendano le nostre vite. Non facciamo in modo che chi si macchia di gesti odiosi come atti di bullismo, reali o digitali, possa trovare un alleato nella solitudine. Ed è qui che entra in gioco la comunità scolastica. E permettetemi di ringraziare in primis la comunità scolastica per questo lavoro attento che fa quotidianamente. E ringrazio tutti e tutte coloro che combattono ogni giorno, con fatica, partendo dalla cultura, dall'educazione. Combattono per esradicare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, creando quella rete, oggetto anche di oggi, quel senso di comunità, quel senso di appartenenza che faccia sì che in momenti difficili le persone che vivono la nostra città, la nostra area metropolitana, mi sento dire anche il nostro paese, anche se non mi compete direttamente, possono non sentirsi soli e possono avere la forza di affrontare le difficoltà di quel momento. Grazie a tutti e a tutte.